Accusato di picchiare e violentare l'ex compagna, costringendola anche a drogarsi, i carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 52enne. Coronavirus, si conferma il contenimento dei contagi a Rimini in regione, ma ospedali ancora sotto pressione. L'Ausl si scusa per i ritardi nei punti vaccinali al lavoro per minimizzare i tempi. Presentate un nuovo progetto per il porto di Riccione, un deviatore dal rio Melo, nuove d'Arsene e una fruibilità migliore anche per i cittadini. Calcio, il Rimini domani ospita un mezzolare in serie negativa nel primo di due impegni consecutivi al Neri, la vigilia del tecnico Mastro Nicola. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Carotigi. Parliamo di una vicenda di violenza della quale emergono pesanti contorni. Violentata, drogata e picchiata selvaggiamente dall'ex compagno, i carabinieri di Cattolica hanno arrestato un uomo di 52 anni per violenza sessuale aggravata e lesioni personali. La loro storia era iniziata a settembre 2020. In sei mesi la donna è precipitata in un incubo dal quale è riuscita a uscire solo al culmine dell'ennesimo episodio di violenza. Le indagini per ricostruire i fatti sono partite dal racconto che la donna ha fatto ai carabinieri di Cattolica su segnalazione del pronto soccorso dell'ospedale Cervesi, dove era arrivata con il volto tumefatto. Da quanto ricostruito, l'uomo con cui aveva una relazione, un 52enne siciliano di professione pescatore, l'avrebbe costretta dapprima ad assumere cocaina, successivamente ad avere rapporti sessuali non consenzienti, con schiaffi e pugni che le hanno provocato la frattura della mascella. L'episodio più grave sarebbe stato all'inizio di marzo, quando la donna, per sottrarsi alla violenza dell'uomo, si era rifugiata nel bagno della camera del residence dove lui l'aveva rinchiusa. Solo l'intervento del portiere dello stabile aveva evitato il peggio. Era già successo che la minacciasse con un coltello puntato alla gola. Il GIP Benedetta Vitolo ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani e ha disposto l'arresto ritenendo, si legge nelle carte, che la detenzione fosse l'unica misura idonea a un'effettiva tutela della persona offesa. Accusato di violenza sessuale e lesioni personali, ieri pomeriggio i carabinieri di Cattolica sono andati a prenderlo per portarlo in carcere. La Guardia di Finanza di Rimini ha effettuato un sequestro di oltre 110 mila euro nei confronti di otto gestori di alberghi per l'omesso versamento al comune della tassa di soggiorno. La Guardia di Finanza ha preso in esame il periodo 2015-2019 in collaborazione con gli uffici comunali. In totale sono state 58 le persone segnalate all'autorità giudiziaria per il reato di peculato. È risultato che quali gestori di strutture alberghiere, dopo avere ricevuto, come previsto, l'imposta di soggiorno da parte degli ospiti, non l'hanno poi riversata nei termini stabiliti al comune, trattenendola per un importo complessivo accertato di circa 240 mila euro. Nonostante la disponibilità di sufficienti liquidità e le diffide ricevute non hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione. Delle oltre 60 gestioni alberghiere controllate, inoltre ben 21 sono state verbalizzate dalle fiamme gialle per violazioni sull'IVA e sulle imposte dirette e 19 sono risultate del tutto inadempienti agli obblighi fiscali, avendo omesso per alcune annualità la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA. Siamo alla situazione del coronavirus, si conferma il trend di contenimento dei contagi in provincia e in Emilia-Romagna, anche se ancora non se ne sente l'effetto sugli ospedali che restano sotto pressione e non rallenta purtroppo neanche il numero dei decessi. Sono 131 i contagi oggi a Rimini, ieri 118, 58 i sintomatici e 195 le guarigioni. Ci sono purtroppo anche 9 decessi, non tutti delle ultime 24 ore. 6 uomini con età tra i 64 e gli 85 anni e 3 donne con età tra gli 82 e i 90 anni. In regione i nuovi casi sono 1.490 su 31.192 tamponi di cui 13.800 rapidi. La percentuale dei positivi sui tamponi sale dal 3,6% di ieri al 4,7%. Le guarigioni in Emilia-Romagna sono 2.064 e così i casi attivi scendono a 72.435, oggi 632 in meno di ieri. La percentuale di quelli in isolamento domiciliare resta del 94,7%. I decessi in regione oggi sono 58, di cui 18 nel bolognese. C'è anche un 43enne a Ferrara. Per quanto riguarda gli ospedali, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 390, 2 in meno rispetto a ieri e Rimini scende da 32 a 28. 3.427 i ricoveri negli altri reparti Covid, 59 in meno. Ma perché negli ospedali si senta in modo più consistente l'effetto del calo dei contagi, confermato anche dal report dell'Auslo e Romagna sul periodo 22-28 marzo, bisognerà attendere ancora qualche giorno, ribadisce il direttore sanitario Altini. Nella settimana in questione a Rimini è sceso il numero dei casi, 1.221 rispetto ai 1.647 della settimana precedente e la percentuale dei positivi, dal 13,3 all'11%. Aumenta invece il numero dei decessi, da 28 a 41. Negli ospedali romagnoli lunedì i ricoverati erano in tutto 747, solo 33 in meno della settimana precedente, con il riempimento sia delle terapie intensive che dei posti letto subintensivi. E sul fronte della campagna vaccinale, con la restituzione delle dosi astralvenica sequestrate nei giorni scorsi per l'inchiesta della Procura di Biella, tornano a disposizione dell'Auslo e Romagna, 1.200 dosi. Ma tengono banco anche i disagi di questi giorni in diversi punti vaccinali, tra cui la fiera di Rimini, con code e lunghe attese. L'Ausl si scusa e fa sapere che ci si sta organizzando per minimizzare i tempi. Tra le cause dell'allungamento dei tempi, riferisce l'Ausl, oltre all'aumento dei prenotati per l'anticipazione degli over 80, anche le tante informazioni chieste al personale proprio sul vaccino astrazeneca. Ieri c'è stata la discussione in assemblea legislativa regionale sul progetto di leggi e ristori, che oggi ha avuto il via libera definitivo, senza voti contrari. Ecco le categorie che riceveranno i nuovi stanziamenti previsti dalla Regione. 9,7 milioni di euro per sostenere i maestri di sci e le guide turistiche, gli operatori del settore culturale e creativo, volontariato e associazione di promozione sociale. E anche il settore ristorazione senza somministrazione. Fondi che si aggiungono ai 34,9 stanziati già dalla Regione a partire dal 2020, ad esempio per bar e ristoranti, 21 milioni, stabilimenti balneari, 5 milioni, agenzie di viaggio, 1,7 milioni. Dobbiamo stare vicino ai nostri lavoratori, la strada è ancora in salita per uscire da questa emergenza pandemica, ma non vogliamo lasciare indietro nessuno. Prossimamente ci saranno ulteriori risorse destinate a settori colpiti a morte, come per esempio le discoteche, come per esempio le palestre, come anche altre attività che man mano cercheremo di prendere per mano e di accompagnare fino all'uscita di questo tunnel. Una boccata di ossigeno per le categorie che sono coinvolte all'interno di questa legge. Come Movimento 5 Stelle però stiamo comunque cercando un'attenzione e che questa maggioranza, questa giunta si adoperi, perché ci sono categorie che non sono rientrate né in questo provvedimento e nemmeno nel decreto sostegni. Penso per esempio alle scuole di danza o alle scuole di musica, che sono comunque attività imprenditoriali che per la loro natura giuridica non hanno beneficiato di questi aiuti economici. Sicuramente è un passo importante, un passo dovuto, ma è insufficiente, perché arriva tardivamente, non contempla tutte le categorie che avrebbero dovuto essere coinvolte, coloro che non lavorano da, oramai alcuni da marzo 2020. Pochi soldi arrivano tardi e quindi è chiaro che non può essere questo a nostro avviso un buon governo a livello regionale. A breve dovrebbero invece arrivare i fondi del decreto sostegni che metterà a disposizione dell'Emilia Romagna 9,3 milioni che finiranno tra l'altro a discoteche e sale da ballo, palestre, cinema ed imprese culturali. Abbiamo bisogno, commenta l'assessore Corsini, che anche il governo faccia la sua parte sostenendo il turismo come risorse congrue e rapide e con decisioni che non devono danneggiare le nostre imprese. Andiamo a Riccione dove prende corpo il piano strategico di riqualificazione del porto, un progetto ampio che non riguarderà solo la Darsena ma anche buona parte del corso del rio Melo e il canale. Tra le ipotesi per aprirsi a nuovi settori turistici, anche lagune con attracchi a largo per le grandi imbarcazioni e un porto a secco per la nautica carrellata da Di Porto. Un progetto dove il porto e il suo fiume sono inseriti appieno nella città e che ha uno sguardo rivolto al mare. A Riccione l'amministrazione comunale ha presentato un piano strategico di riqualificazione che abbraccia diversi chilometri, dalla zona di Via Murano a San Lorenzo, dove dovrebbe sorgere un deviatore sul rio Melo, fino allo specchio d'acqua davanti al canale, con l'idea di creare due grandi lagune con attracchi ad un chilometro e mezzo dalla costa per imbarcazioni che nella Darsena non riescono ad entrare per le dimensioni, dalle grandi barche a vela agli yacht. In mezzo una serie di ambiti uniti tra loro ma su cui si può intervenire separatamente per step. Il primo, da cui si dovrebbe partire con inizio lavoro in autunno, è la riqualificazione del tratto di canale tra la ferrovia e via D'Annunzio. Via i muri che dividono dalla banchina, via i posti auto lungo via Parini e Bellini, spazi verdi, passeggiate pedonali e ciclabili, con l'eventuale realizzazione di chiatte sull'acqua che fungano da bel vedere. I soldi ci sono, saranno utilizzati parte dei 4 milioni di euro accantonati dalla vendita delle azioni di era. Seguendo il corso del rio Melo, oltre al bypass a Saracinesca, si interverrà su tutta l'asta per legittimare il percorso naturalistico che recentemente è stato valorizzato. Scendendo si arriva alla grande area dei parchi cittadini, con nuovi spazi e piste ciclabili. In via Corte Maggiore sarà realizzato un parcheggio multipiano. Utilizzerà per i volumi il degradare della falesia. Sulla parte sinistra del canale si ipotizza un porto a secco, con silos in vetro per nautica carrellata. Si tratta questa di un'area privata, su cui inizialmente erano previsti appartamenti che non sono più contemplati. La sua realizzazione richiederà l'abbattimento del ponte di Via dei Mille. Sarà realizzato anche un piccolo parcheggio a cui si accederà da una nuova strada che partirà dalla rotonda delle maschere. C'è in programma anche un altro parcheggio multipiano che sfrutterà la falesia a lato monte. In totale sono previsti 500 posti auto. Per il porto ci sono una serie di suggestioni. Gli specchi d'acqua non saranno toccati. Sarà rifatto il ponte su Viale d'Annunzio. Sorgerà un grande palazzo del mare dove oggi c'è il club nautico. Spariscono i muri tra darsene e spiaggia con gradoni di collegamento. Sul lato sinistro un'area verde al posto del parcheggio. Infine si arriva al mare con le due grandi lagune per l'attracco delle imbarcazioni e gli sport nautici. Finalmente hanno commentato il sindaco Tosi e l'assessore Ermeti un punto grigio fino ad ora nascosto che viene valorizzato. Si tratta di un progetto che la città attende da sempre che si integra pienamente al contesto urbano e apre a nuove opportunità turistiche. Siamo al calcio. Domani la prima di due partite casalinghe consecutive per il Rimini. Alle 15 la squadra di Mastro Nicola ospiterà il Mezzolara. Poi mercoledì prossimo ci sarà il recupero della gara con la San Maurese. I biancorossi sono in serie positiva da tre turni a quota 30 in classifica. I bolognesi in campo domani invece di punti ne hanno 23 con una partita e meno sono reduci dei quattro sconfitte di fila. Non sono scesi in campo domenica scorsa invece. In casa biancorossa in forte dubbio Valeriani. Ascoltiamo la vigilia dell'allenatore del Rimini Alessandro Mastro Nicola. Siamo in un buon momento però questo a mio avviso è sempre relativo perché poi ti devi sempre confermare. Noi ogni settimana poi come in questa stagione magari capita spesso anche il turno infrasettimanale c'hai un esame. Questo esame va passato. Se quello di domenica scorsa è un esame che abbiamo passato a pieni voti pur con qualche rammarico dobbiamo confermare questo nostro periodo di crescita. Mezzolara viene da un periodo un po' particolare nel senso che loro sono stati fermi tantissimo a causa Covid. Probabilmente la ripartenza così come è capitato a noi sta capitando a loro. Non è delle migliori però poi il valore della squadra a mio avviso non si discute perché comunque ha sempre fatto vedere un buon calcio e nonostante i risultati, gli ultimi, se si possa pensare a una squadra un po' così in difficoltà in realtà poi a mio avviso soprattutto nello sviluppo del gioco non lo è quindi non possiamo soffermarci e guardare solo il risultato quindi se vai a analizzare il risultato dentro c'è tanto di più e le preoccupazioni devono essere tante insomma. A parte il calendario ma loro stavano secondo me facendo un buon campionato poi la sosta a mio avviso gli ha portato tanti problemi. Ci sono un po' di dubbi dovuti ad acciacchi. Questi li valuteremo fino all'ultimo minuto. Io domani anche metterò i tre rigoristi se li ho tre in campo altrimenti ne metterò due ma senza nessuna scaletta proprio. Non l'ho mai fatto veramente e credo di non farlo mai. Io credo che non abbia bisogno delle mie spinte insomma Vutai. Ha fatto 14 gol abbiamo ancora 15 partite da fare quindi non credo che passi da me il rinnovo di Vutai ma credo che la società si stia già muovendo con largo anticipo su alcune situazioni a mio avviso. Siamo arrivati alla conclusione. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it la pagina facebook di News Rimini e la nostra piattaforma video Icaro Play dove potete rivedere i nostri telegiornali e tanti altri contenuti video. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione e l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti.